ciao a tutti lettori di windows blog italia da biaggio questo oggi vogliamo parlarvi di pdf element che è una nuova soluzione per la gestione dei pdf che offre delle innovative e intuitive tecniche per la creazione e la modifica dei documenti e in particolare la modifica dei form di ogni genere l'ultima versione di pdf element la 6 si caratterizza per l'aspetto ispirato a quello di office 2016 per windows e per mac ed è ancora più veloce e intelligente consente inoltre di modificare qualsiasi tipo di documento esattamente come microsoft word pdf element 6 introduce almeno 5 nuove caratteristiche degne di nota per quanto riguarda la creazione e la modifica dei form avremo infatti una facile creazione dei pdf con i form interattivi l'esportazione dei dati in excel e la conversione del testo dai pdf scansionati anche il flusso di lavoro è stato migliorato e è stata infatti implementata la modifica del testo ancora più intelligente e veloce il nuovo e robusto motore di pdf element 6 consente agli utenti di modificare i documenti proprio come in microsoft word senza perdere i form e la formattazione il lavoro è ancora migliore e più veloce la nuova interfaccia infatti ispirata office fornisce un'esperienza utente corrente al sistema operativo e agli altri software ufficiali all'avvio pdf di pdf element 6 sarete accolte a una schermata di inizio moderna e colorata dalla quale poter scegliere subito cosa si intende creare modificare o convertire apprezziamo molto la scelta della società che per il suo software ha optato per l'utilizzo dell'interfaccia ribbon esattamente quella già presente in esplora file in office questa interfaccia si caratterizza per pulsanti icone grandi raggruppati in schede tematiche degli strumenti c'è una pratica scheda visualizza tramite la quale cambiare la modalità di visualizzazione dei pdf e degli altri documenti aperti dalla scheda annotazione è possibile scrivere del testo applicare delle forme l'editing delle immagini dello sfondo della filigrana della numerazione è invece affidato alla scheda modifica quante volte inoltre vi sarà capitato di dover eliminare o aggiungere una pagina a un pdf oppure di dividerlo o di sostituirlo o di sostituire altre delle pagine tutto ciò è possibile grazie alla scheda pagine di pdf element 6 ma la scelta più importante è indubbiamente quella dedita alla creazione alla modifica al riconoscimento dei moduli qui è possibile trovare tutti gli strumenti utili per la modifica dei pdf interattivi e non se invece i vostri pdf sono super segreti avrete la possibilità di proteggerli con password in pochi e semplici click potrete inoltre apporre anche la firma al documento infine non manca la sezione aiuto con i link alla community online i video tutorial su youtube e alla ricerca degli aggiornamenti per il programma apriamo anche la scheda file dove è possibile visualizzare le proprietà del documento aperto divise per descrizione la vista iniziale la sicurezza potrete anche creare un nuovo pdf potrete aprire eventualmente un file potrete salvarlo stamparlo potete condividerlo utilizzando l'email dropbox evernote o google drive potrete eventualmente convertirlo in un formato di word oppure in un altro dei formati disponibili all'interno del programma potrete anche ottimizzarlo per il web per l'ufficio per la stampa o eventualmente se avete delle esigenze particolari potrete anche personalizzarlo le opzioni invece del programma sono veramente ricche e vi consentiranno di personalizzare al massimo l'esperienza utente offerta da pdf element 6 potrete ad esempio gestire le opzioni generali modificare il font specificare eventualmente le opzioni di conversione le qualità delle immagini potrete gestire anche l'opzione per lo cr quindi riconoscimento ottico dei caratteri oppure potete decidere quando il programma dovrà verificare la presenza degli aggiornamenti tra le funzioni di pdf element 6 che che abbiamo più apprezzato che abbiamo più apprezzato c'è quella sicuramente di elaborare i file in blocco apriamo due pdf nei nostri test le procedure sono state svolte in tempi abbastanza rapidi senza intoppi clicchiamo inizio il programma avvierà immediatamente la conversione l'elaborazione se vi mancasse invece fantasia o tempo a disposizione potrete scaricare direttamente dal sito web dell'azienda decine di modelli di form pdf già pronti all'uso pdf element 6 è un software disponibile sia per sistemi operativi windows che per mac potrete scaricare liberamente la versione trial che vi consentirà di provare senza spendere nulla tutte le funzioni del programma al fine di valutare eventualmente l'acquisto della versione completa bene tutto per questa breve review alla prossima un saluto da biaggio e da tutta la redazione di windows blog italia